Anita Olivieri è inquieta per la sua crescente fama dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Durante una conversazione informale in cucina con Massimiliano Varrese, ha confidato alcune delle sue abitudini quotidiane, come fare la spesa in pigiama o godersi un film al cinema da sola. Tuttavia, teme che la sua libertà venga compromessa a causa della sua nuova popolarità, specialmente nei primi tempi dopo il reality. La possibilità che la gente possa giudicarmi mi preoccupa molto, ha ammesso Anita Olivieri. A volte esco di casa in pigiama e non me ne importa, ma ora mi rendo conto che forse dovrei preoccuparmi. Mi infastidisce davvero. Amo la mia libertà e il pensiero che potrei essere delusa mi angoscia molto. Massimiliano Varrese ha condiviso le preoccupazioni di Anita, ma Guendalina Canessa le ha ricordato la crudele verità dei commenti sui social, sostenendo che la sua fama sarebbe svanita nel giro di pochi giorni. Anita Olivieri ha raccontato a Giuseppe Garibaldi, Massimiliano mi ha rivelato tutto. Durante la stessa conversazione con Massimiliano Varrese, Anita ha espresso sospetti riguardo a Giuseppe Garibaldi e alla sua presunta infatuazione per lei. Rivolgendosi a Giuseppe, ha detto, Massimiliano insiste sul fatto che sei suo amico e che hai sempre ragione su tutto. Sai cosa mi ha detto? Secondo me Giuseppe prova qualcosa per te. Se è vero, parla con Massimiliano, non con me. Pensa prima di accettare ciecamente le sue parole. La tua reazione mi sembra strana. Ricordi quando eri con Beatrice e io sono stata attaccata? Tu l'hai sempre difesa. Quando gli altri chiedevano perché ti avvicinassi a Bea, ho detto loro che lo facevi per farmi preoccupare, per vendetta.